È un'opera utile perché connette delle aree industriali molto importanti, aumenterà la qualità di vita di questi territori perché libererà dal traffico le comunità locali. È un'opera che serve allo sviluppo del paese, è un'opera che fa parte di una rete di infrastrutture che abbiamo programmato, le 100 infrastrutture prioritarie che costano circa 100 miliardi, di cui 92 sono già finanziati, quindi è un sistema che si sta muovendo in maniera positiva con delle regole giuste, europee, in cui il privato mette la sua parte, lo Stato fa la sua parte e insieme credo si faccia qualcosa di utile.